Sono 40.000 le dosi di AstraZeneca che non potranno essere somministrate al momento a causa del blocco prima di un lotto da parte della Regione Marche, dopo il decesso di un docente in Piemonte e poi generalizzato dall'Agenzia Italiana del Farmaco in tutto il territorio nazionale. Una decisione che è stata adottata in attesa del pronunciamento dell'EMA e che in modo inevitabile sta provocando un rallentamento delle vaccinazioni. Per questo la Regione ha previsto un nuovo piano che si muoverà su tre direzioni. Verranno inviati messaggi per informare i cittadini dello slittamento e della riprogrammazione dell'appuntamento. Verrà aumentato di 20 unità, il personale addetto al numero verde Covid per dare risposte tempestive ed è previsto un sito web sul quale verrà comunicata la tipologia di vaccini in arrivo, ma anche la fase di somministrazione con i numeri e la rendicontazione, così che ognuno possa verificare lo stato d'avanzamento della vaccinazione. Inoltre, al termine del Consiglio regionale, che si è tenuto in modalità online, il presidente Francesco Acquarogli ha annunciato la costituzione di una cabina di regia per monitorare ogni giorno l'andamento della campagna vaccinale e in caso cercare di correggere il tiro. Ad oggi nelle Marche sono state consegnate oltre 214 mila dosi di vaccino e di queste ne sono state somministrate più di 179 mila, l'83,6%. Infine, il governatore ha assicurato che a breve arriveranno anche nella nostra regione le cure con gli anticorpi monoclonali, che in base a una richiesta di sperimentazione potranno essere utilizzate anche per i più giovani.